Domenica 3 marzo Piazza Duomo si riempirà per la quinta volta di maschere, colori, stelle filanti e coriandoli grazie al carnevale che ancora una volta l'associazione Mamme per l'Aquila con il Comune, presieduta da Valeria Baccanti, ha messo in piedi. Ci saranno bambini, mamme e papà, ma anche nonni, tutti mascherati e vestiti a festa per riportare la vita nel centro storico. L'evento è nato anche per questo e per questo si mantiene nel centro della città. Non mancheranno l'animazione e personaggi più amati dai bambini. L'evento si svolgerà dalle 10 alle 13 circa. Parallellamente a questo c'è anche l'evento più strettamente organizzato dal Comune dell'Aquila per il cartellone carnevalesco che prevede domenica 24 febbraio invece la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro storico, dalle 15 dalla Fontana Luminosa fino ad arrivare in piazza. L'appuntamento è alla seconda edizione, vedrà il carnevale abruzzese con sfilata di maschere della tradizione a cura di Pantarei, il carro allegorico ispirato alla carica dei 101 portato in strada dalla Proloco di Coppito e ancora la sfilata dei bambini in musica grazie alla Wispy a Punta Luce con il carro della Proloco Piana di Roio ispirato agli anni 30 invece. La compagnia teatrale delle Setteville si occuperà della sfilata allegro corteo funebre di Rea Carnevale e poi i bandierai dei quattro quarti daranno vita al carnevale fantasy medievale.